ciao a tutti amici dell'ombrello italiano e ciao anche a tutte le persone che ancora oggi non mi conoscono io sono pierpaolo e sono l'unica guida di questa organizzazione che svolge tour guidati a praga in italiano sono abituato a seguire centinaia e centinaia di persone ogni anno che vi siano praga per un fine settimana due tre giorni ma cosa succederebbe se le persone avessero almeno un giorno in più oggi voglio inaugurare con voi una nuova sottosezione del mio video blog che si chiama praga al quarto giorno il primo luogo di questa selezione è vischerà non siamo molto lontani dal centro siamo ancora a praga 2 al confine sud della vecchia noviemesto cioè la città nuova fondata da carlo iv l'imperatore a metà del quattordicesimo secolo la leggenda vuole che vischerà sia la prima sede dei re ciechi ma in realtà gli scavi archeologici ci portano altre conferme cioè che il primo castello sia stato retto qui alla fine del decimo secolo poi ha avuto una storia molto travagliata fino ad essere dalla guerra dei trent'anni alla metà del 1800 una grande fortezza e quindi un'accademia militare sotto l'impero asburgico oggi vischerà da appare come un angolo molto tranquillo lontano dalle zone turistiche pieno di verde con un grandissimo panorama ed è uno dei siti più importanti della storia culturale cieca e sul panorama di vischerà di sicuro domina su tutto la grande chiesa dei santi pietro e paolo in realtà faremo mello a chiamarla basilica minore ed è così in questo stile pseudo gotico da dopo il 1880 grazie alla creatività e la direzione dell'architetto joseph mocker il quale ha curato la maggior parte di tutti i grandi monumenti che a fine dell'ottocento vennero restaurati in stile neogotico interni sono un trionfo del neogotico anche se lasciano emergere ancora meglio questo bellissimo gusto secese quindi art nouveau liberty da una parte troviamo la storia dell'arrivo dei santi cirillo e metodio e da un'altra parte la storia della costruzione di vischerà il risultato è eccezionale e annesso alla chiesa c'è il bellissimo cimitero cristiano monumentale di praga è un luogo dove sono sepporti tantissimi personaggi della cultura cieca tra cui dvojax metana alphonse muka karel chapek o ian neruda e tantissimi altri vischerà contiene anche altri luoghi antichi come i bagni di libushen o la rotonda di san martino o i fantastici bastioni dove oggi sorgono piccole caffetterie o discreti ristorantini raggiungere vischerà è davvero molto semplice occorre prendere la metro sulla linea rossa scendere alla fermata di vischerà oppure usare i tram nel numero 7 14 e 18 che ci porteranno alla piazza di osticlovo namiesti dove saliremo a piedi e percorriamo le porte di ingresso di spicca leopolda e tabo oppure il numero 17 che ci porterà alla fermata di vito dove percorreremo queste bellissime scalette che ci porteranno direttamente alla chiesa di pietro e paolo vi è piaciuto questo video? allora condividetelo per maggiori informazioni sui tour che svolgo a Praga basta visitare il sito l'ombrelloitaliano.eu dove troverete tutti i dettagli ah sì c'è una strana e singolare leggenda su questo gruppo di pietre ci vediamo a Praga? grazie a tutti